Mauro Tassotti, serata di premiazioni, questa sera a Cesenatico con la terza edizione del premio Ajak dedicato ad Azzeglio Vicini. Che ricordo ha di questo grande allenatore? Io l'ho conosciuto, che anni erano? Era nel 1900, credo 80 addirittura. Con la Nazionale Under 21 ho avuto l'onore, le mie prime convocazioni sono state proprio sotto la sua squadra. Una grande persona, un grande allenatore, grande umanità e sono qua anche per onorarlo. Veniamo al presente, Milan è campione d'Italia con il 19esimo scudetto, lei ha passato quasi tutta la sua vita in rosso-nero. Che cosa vuol dire di questa stagione di Serie A che è appena conclusa? Il Milan ha fatto una grandissima stagione, ma non solo questa, sono due anni e qualcosa che il Milan sta giocando davvero bene e credo questo sia un po' il coronamento di questo periodo. Sono stati bravi i giocatori, brava l'assurtà a scegliere dei giocatori giovani con grandi prospettive. Bravissimo l'allenatore, insomma era tanto che il Milan non riusciva più a centrare lo scudetto e adesso la stella dello scudetto è un po' più vicino visto che siamo arrivati a 19. Veniamo alle ultime ore, grande vittoria di Carlo Ancelotti in Champions League con il Real Madrid. Insomma che cosa puoi dire su Carletto? Che dire, soltanto fargli i complimenti perché sta facendo cose straordinarie. e il Real Madrid mi sembra che sia un po' casa sua, come lo è stato a Milano, mi sembra che sia uno dei suoi posti ideali e quando va lì ha sempre fatto bene.